Eccoci amici, ben trovati, l'appuntamento con l'informazione di Teleiblea Canale 178. C'è il nuovo governo e ci sono alcune cose che secondo me sono molto interessanti. Una riguarda la questione dell'uso dei contanti. Per combattere l'evasione si è, negli ultimi tempi, cercato di passare tutto con la moneta elettronica. Cioè fare tutti i pagamenti attraverso la carta di credito. Per cui uno va al supermercato, 5 euro li paga con la carta di credito. Ma anche perché non può superare il 1000 euro, forse il 2000, bisogna vedere. E io sono convinto che questa è una limitazione della libertà. Vabbè, questo paese con la libertà spesso ci gioca dicendo che è la libertà. Ma la libertà deriva anche dal fatto che pagare le tasse è un dovere, ma il cittadino ha diritto di vivere bene. Il cittadino oggi vuole vivere bene. Allora, vi devo dire che per esempio, ora sto dicendo una cosa che certamente farà impressione a molti. Il fatto che gli assegni, c'è una volta che c'erano gli assegni, ora non ci sono più perché sono tutti non trasferibili e quindi non puoi fare bene. Ma una volta c'era un giro di assegni, che sembrava proprio una cosa da terzo mondo. Però sapete cosa faceva? Faceva girare il denaro senza che ci fosse il denaro. Andavi da qualcuno, gli dai un assegno a un mese, quello magari lo girava un altro per un pagamento. Quindi questo alla fine uno pagava, ma i soldi erano andati in due o tre parti in modo virtuale, meglio della moneta elettronica. E devo dire che era un sistema che dava grande respiro, perché era quello il momento boom della nostra economia. Quando c'era il respiro, uno poteva fare un assegno, aspettava un mese e poi lo pagava. Oggi non è più possibile perché lo Stato ci deve controllare. Ma se oggi buona parte degli italiani, quelli ricchi, non ci sono problemi, ma buona parte degli italiani non hanno neanche i soldi per mangiare mezzogiorno e sera. Ma ti immagini, ci devi controllare se abbiamo mille euro. Io lo capisco che dobbiamo assicutare i ricchi, ma i poveracci, che sono tanti, hanno diritto ad avere più spazio, più libertà, poter fare piccoli debiti. Perché se no noi avremo i ricchi sempre più ricchi, che se sono intelligenti, state tranquilli, che affronare il fisco ce la fanno sempre. E i poveri sempre più poveri. Quindi speriamo che questo governo faccia qualcosa di importante anche in questo settore. Intanto c'è una cosa che secondo me è molto positiva. Io l'ho sempre detto. Qui non c'è nessun problema di razzismo, una battuta che si fa sempre. Ma non c'entra niente. Ma è anche vero che se pensate che solo quest'anno ci sono stati 78 mila sbarchi, finora arriveremo a 100 mila. C'è una città grande come può essere 100 mila abitanti, Siracusa per esempio, o Trapani. No, Siracusa c'è 100 mila abitanti. E' una città che arriva ogni anno da noi e diventa città. Ma città senza regole, senza posizione di sicurezza, senza documenti, senza come mangiare, eccetera. Tutto questo purtroppo non è più possibile secondo me. E il nuovo ministro, Piantedosi, ministro degli interni, non è Salvini, è Piantedosi, che è stato, se non sbaglio, prefetto a Roma, quindi una carica molto importante, nella sua prima uscita, e pigliamo questo brevissimo servizio di Tgcom24 di oggi, già nella sua prima uscita ha detto attenzione, queste cose così non funzionano, dobbiamo obbligatoriamente trovare un sistema. Vediamo cosa dice il ministro degli interni.